e ha constatato che l'ernia del disco era scomparsa. Non ero mai uscita così felice da un ambulatorio medico. A quel tempo andai dalla signora Hoisla con gravi disturbi per l'introduzione. In verità era tutto giunto alla fine. Avevo bravi medici a disposizione che non sapevano più che fare. Anche mio marito lavorava in ospedale, quindi eravamo assistiti bene, ma la guarigione non arrivava e dato che niente mi poteva aiutare, arrivai al circolo. Avevo grossi problemi alla colonna vertebrale per via di un incidente. Ero molto slogata e avevo grosse limitazioni nei movimenti e dolori. Un disco vertebrale era allogorato. Questo causava colpi della strega, dolori forti e anche limitazione nei movimenti. Avevo problemi di metabolismo nella zona dello stomaco e dell'intestino. Una pancreatite, all'inizio acuta, poi è diventata cronica. Un'infiammazione del pancreas, dunque, che richiedeva una severa dieta, che mi provocava forti coliche, se non la rispettavo. E poi un continuo disturbo ai reni, suppurazione, abbassamento e calcoli renali. Due grosse ulcere nella parte bassa dell'intestino crasso. Avevo la pressione bassissima, reumatismi muscolari in entrambi i lati della colonna vertebrale, con noduli grossi come uova. Cominciai a fare dei fanghi, bagni termali, massaggi. Faceva tutto bene, alleggeriva il dolore, ma non guarivo. Alla fine tutto il mio corpo era arrivato agli sgoccioli e mi fu dato un aiuto. Mi furono assegnate anche delle infermiere. L'ortopedico mi disse che se non avessi seguito tutte le indicazioni, non avrei di certo visto crescere i miei bambini, come tanto desideravo. E le indicazioni erano cinque minuti di cucito, cinque a stirare, non dovevo mai più sollevare pesi, mai più fare assistenza. E questo era davvero molto poco per accudire una famiglia di cinque persone. La signora Lölge non poteva più svolgere i lavori di casa, questo me lo ricordo. Allora spesso le ho dato una mano e quando doveva andare in ospedale le aiutavo sempre. Anche quando era a casa, spesso doveva stare sdraiata, non era davvero in grado di fare tutte quelle cose necessarie in una famiglia con cinque bambini. E così sono arrivata qui, piena di scetticismo, ma non vedevo altra soluzione. Tutto era alla fine. Così sono rimasta all'introduzione per quattro ore, non me ne volevo più andare. Tutto quello che sentivo mi faceva stare così bene. La signora Hoisela mi consigliò di lasciare lì tutto quello che mi pesava, di lasciare tutto a lui, a Bruno Gröning, e in silenzio l'ho fatto. Non ho detto nulla, ma ho pensato, se questo è possibile non ho niente da perdere, anzi ho tutto da guadagnare. E quando arrivai a casa, tutta la famiglia aspettava di sapere cosa mi fosse accaduto. Ho solo chiesto a tutti di accogliere questa forza, ed è andato molto bene. Mi ha reso molto felice il fatto che mio marito partecipasse. In tutto il suo studio di teologia non ha mai sentito parlare della forza divina, ma adesso l'aveva sentita. La notte seguente Lilian Lölgen avverte ancora forti dolori, ma la mattina dopo ha una grande sorpresa. Sono saltata giù dal letto, cosa che prima non potevo fare, e non avevo più dolori. Dopo tutti quegli anni, non avere dolori era una cosa meravigliosa. Potevo alzare le braccia, girare la testa di fianco. Questo prima non era scontato. Prima, per via dei reumatismi, le potevo alzare solo un po'. Non sentivo più i nodoli che prima si avvertivano bene al tatto, sì. E poi, nessun dolore nella zona dello stomaco. E lì ho sentito che Dio è molto più vicino di quanto io possa immaginare, e che ama e aiuta tutti. E poi sono andata dall'ortopedico, dietro consiglio della signora Heusler. Quando ha sentito che lavoravo di nuovo, ha fatto subito delle radiografie, perché mi aveva detto che sarei vissuta ancora per poco se avessi fatto tutte quelle cose. Non avevo più bisogno di assistenza, e ha constatato che l'ernia del disco era scomparsa. Non ero mai uscita così felice da un ambulatorio medico. E allora per me, e per tutti quelli che erano accanto a me, è cominciata una nuova vita. Di tutti quei disturbi non è tornato neanche uno. Tutto era scomparso. E così è rimasto. Proprio a maggio sono 33 anni, e io sono rimasta sana. Sono così felice, e sto così bene. A quel tempo, quando arrivai qui, avevo circa 40 anni. Adesso sto per compierne 74, e mi sento così giovane. Posso fare tutto, e tutta la vita mi riempie di gioia. Posso fare tutto, e mi riempie di gioia. Posso fare tutto, e mi riempie di gioia. Posso fare tutto. Grazie a tutti